E questo è quello che noi dobbiamo impulsare e trasmettere a queste nostre giovani generazioni. Quello che fate qui a scuola è quindi di incarnare al meglio il pensiero di Rita Lettica e di Montalcini. Quello che diceva c'è chi la testa la passa, chi la nasconde, chi la perde, ma soprattutto preferiamo chi la usa. E voi avete dimostrato oggi di saperla usare. Questi ragazzi con quello che avete fatto, perché poi c'è un filo conduttore in tutto quello che avete manifestato oggi dalle canzoni, dagli interventi, dagli discorsi. Quello di esaltare il valore, appunto la credere nei valori, come diceva Rita Lettica e Montalcini, il valore della cultura che è estremamente importante, ma soprattutto il valore dell'inclusione. Oggi è ancora più importante questo valore che vada rispettato, perché abbiamo sentito raccontare la storia di Rita Lettica e Montalcini ai ragazzi che nel 1938 in questo paese fono promulgate, l'ha letto benissimo questo studente, fono promulgate le leggi razziali e Rita Lettica e Montalcini, così come tante altre persone come lei che avevano, che erano ebree, furono costrette a lasciare il nostro paese. Immaginate quanti talenti abbiamo perso come Rita Lettica e Montalcini per la stupidità umana di promulgare una legge dove c'è una distinzione di razza e questo è ovviamente il maggior valore che noi dobbiamo prendere da questa persona insieme al valore della cultura e capire che nel mondo c'è una sola razza, che è quella razza umana, quindi il valore dell'inclusione non dobbiamo trasmettere soprattutto a questi ragazzi. E questo credo è il più bel messaggio che è venuto oggi da tutti quanti voi ragazzi nei discorsi che avete fatto, nelle canzoni, nei brani che avete cantato e ci avete fatto ascoltare. Davvero io non ho parole per fare i complimenti a questa scuola, a questi insegnanti e a questi ragazzi. Continuate così che avremo sicuramente, continuate così perché avremo dei cittadini all'altezza della storia e della cultura di questa città. Grazie.